È l'Italia che cambia, è l'Italia che pedala Sui sentieri differenti, ecologici e coerenti Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia, siamo noi Io avevo l'idea e forse anche il sogno di fare qualcosa soprattutto per la sostenibilità Lavorando a scuola ho pensato che le scuole hanno un grandissimo potenziale Gli studenti di oggi sono l'economia di domani Abbiamo detto facciamo con più scuole E così ci siamo poco a poco incontrati Gerda era una delle prime Il tema era una relazione su sostenibilità e economia sostenibile Tre fasi Erano la prima fase, raccontare quello che succede col mondo Che è grave Nella seconda fase invece deve venire la speranza Bisogna vedere cosa si può fare, cosa è già possibile, cosa viene già fatto In questo contesto è molto importante l'economia del bene comune La terza fase è che gli studenti che erano più o meno 80 in un singolo gruppo Si sono divisi in gruppi più piccoli e hanno cercato soluzioni E queste sono state scritte su quelle soluzioni, su quelle proposte dopo il gruppo di lavoro Lavora per tutto l'anno scolastico Ogni scuola è completamente indipendente Noi facciamo solo dare spunti L'obiettivo è che la scuola diventa sempre più sostenibile Perché la scuola ha anche la funzione di dare un esempio Io sono partita dall'idea di un'economia un po' diversa Io vengo da un dottorato di filosofia L'economia è un ambito così importante per il nostro futuro Che poi ho capito l'economia però secondo il mio gusto dovrebbe essere un po' innovativa E allora è venuto proprio questo entrepreneurship education Con questo concorso e allora ho capito che questo è il momento di andare insieme Per noi già prima del 2014 la scuola ha deciso di fare un concorso E questo concorso parte dall'Austria Ed è un concorso che si svolge nel periodo di due anni Ed si chiama Entrepreneurship Schule La scuola dell'imprenditorialità Abbiamo subito fondato una agenda, un gruppo lavorativo Che è importantissimo che ci sia in ogni scuola Questo modello è basato con lavoro con i ragazzi Lavoro degli insegnanti, lavoro del preside E qualcosa che è una cosa strutturale E questi requisiti devono essere riuniti Poi presentati come documentazione E poi questa commissione decide se ci dà questo award E questo concetto è molto interessante Perché non è che questo insegnamento all'imprenditorialità È un tot di ore alla settimana Ma è un concetto di informazione Una in base in questa settimana di progetto Quest'anno si è occupata dello spreco alimentare in gastronomia Hanno studiato in modo teoretico Quanto viene sprecato, dove E hanno proposto questi doggy bag O gourmet bag Che sono dei contenitori di cartone riciclato Con uno stretto interiore di fecola di mais Che non lascia uscire liquidi e unto Qua in Sottirolo quando vai in ristorante E lasci qualcosa sul piatto Viene buttato via Spero che magari anche nel Sottirolo Fra due anni magari in ogni ristorante Si potrà, o almeno in tanti Si potranno trovare queste scatolette Che il cameriere già ti chiede In questo gruppo di lavoro Il successo più importante è che Abbiamo risparmiato molto sul riscaldamento Poi abbiamo anche per la carta Che ci occupiamo Che la scuola usa carta riciclata Il bilancio dell'economia del bene comune Lo devono fare in quinta Fa parte del programma In certi classi ricevono i bilanci Delle imprese che fanno già questo tipo di bilancio Li analizzano Qualche volta si sceglie Il formato Andiamo ad un'azienda che lo fa E così ce lo spiega I ragazzi hanno apprezzato Capiscono che questo è il modo futuro Di agire Per me l'Italia che cambia È la formazione di ragazzi Che sono in grado di gestire la propria vita Nel mondo del lavoro Nel mondo privato In un mondo sostenibile E vivibile per tutti i cittadini Capire che se andiamo avanti in questa direzione Stiamo distruggendo anche l'economia E non solo capirlo Perché sono già in tanti Ma vedere la via per poterlo fare L'Italia che cambia è anche una gioventù Che non vede solo quello che non va bene Dobbiamo far capire a loro Che ci sono tutte queste iniziative Che c'è non solo speranza Ma è una realtà